un bosco di cacerro appennino legiano diretto sempre con la mia fedele giannezza una bella penna direi di poiana cosa ci sarà mai chissà se ci sono i primi aereos di quest'anno direi proprio di sì profumo che profumo guardate che veramente hanno un profumo di accurecce che sono spettacolari c'è anche il fratello c'è anche il fratellino c'è anche il fratellino bellino pure presto dai intanto il capotto non lo prendiamo avanti la salita è dura però se merita se ne vale la pena direi di sì un altro bel nero il fratello e gli davanti si ma non non ma di